Ciao, benvenuto, benvenuto alla base, vieni, accomodati. Sono proprio contento che tu voglia aggiungerti all'equipaggio di questa missione. Ti faccio vedere un po' come sarà la base in cui vivrai per tanto tempo se deciderai di far parte della missione. Vieni, seguimi. Ecco, questa è la parte di ricerca della base. Gli impianti sono da un'altra parte, però tu farai parte di uno dei gruppi di ricerca. Quali dei gruppi? Non lo so, adesso ti faccio vedere un po' i compiti dei vari gruppi e quali sono, così potrai decidere. Questa è l'area che ospita il gruppo che si occupa dei sistemi di supporto vitale dell'equipaggio, quindi fornitura di ossigeno, rimozione di anidride carbonica, controllo dell'acqua, dell'acqua potabile. Per fare i controlli servono delle analisi chimiche. Io spero che tu sia vegetariano, perché naturalmente su base Marte ci si nutre con vegetali, vegetali che si coltivano sulla base. Ci sono delle serre, questa è una serra di ricerca, quindi qui il gruppo si occupa di provare varietà di vegetali che si spera siano più adatte alla vita su Marte. Si testano le proprietà nutritive, la quantità di vegetali che servono per essere operativi nel lavoro che dovrete svolgere. E l'altra parte di lavoro è, per esempio, testare la fotosintesi delle piante per capire se le serre hanno la giusta quantità di illuminazione e poi anche di acqua e nutrienti. Quindi si fanno delle prove con dei sensori che aiutano a capire quello che sta accadendo. Vieni, seguimi, perché questa è l'area occupata dal gruppo salute. Il gruppo salute è importantissimo naturalmente per l'equipaggio. La salute fisica è importante perché su Marte il lavoro è duro, l'ambiente è piuttosto poco adatto all'uomo per il momento almeno e allora si dovranno fare delle prove, delle prove anche sotto sforzo e per poter fare delle prove in sicurezza all'interno vi faremo muovere, correre, più o meno e poi verranno svolte le prove, prove di riflessi, prove cardiache, pressione, battito cardiaco e tra l'altro il gruppo si occupa anche della salute mentale delle persone perché naturalmente in un ambiente ristretto, chiuso, come una base marziana e le persone devono stare bene fra di loro. Queste sono le ultime due aree di ricerca. Qui c'è Fabio che sta programmando il rover. Naturalmente noi non abbiamo il rover vero perché è ancora in costruzione però il software che sta mettendo a punto Fabio è il software che userete voi per il rover effettivo e questa è l'area occupata dal gruppo che si occupa dei lavori esterni. I lavori esterni sono per esempio i lavori sui moduli fotovoltaici, sui pannelli solari che danno energia a tutta la base e tutti gli altri lavori. Qui c'è un braccio robotico perché alcuni dei lavori esterni non potete farli voi di persona perché sono troppo faticosi, troppo pericolosi, troppo difficili e allora ci si affiderà a dei robot, in particolare dei bracci meccanici. Guarda, questi sono i gruppi di ricerca. Io spero che tu sia ancora dell'idea di far parte dell'equipaggio della seconda missione su Marte e spero che tu abbia idea di quale gruppo fa più per te e adesso tocca a voi scegliere e confermare la vostra partecipazione. Grazie.